La prima sezione civile della Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso presentato da Fabiano Amati, consigliere regionale del Partito Democratico, condividendo i motivi sulla legittimità costituzionale della legge Severino. Amati, condannato in secondo grado per tentato abuso d'ufficio, potrà così tornare nel Consiglio regionale della Puglia dal momento che la Corte ha congelato la sospensione del maggio scorso, in attesa che sulla vicenda si pronunci la Corte Costituzionale. Con l'arrivo della decisione il politico fasanese non ha perso tempo, anzi si è ricandidato alle regionali. Ai social network ha affidato la notizia, torno in Consiglio regionale, grazie a tutti sono stato restituito a maggiore serenità e alle cose che ho ancora da fare per rispettare il voto del 2010. C'è stata molta sofferenza, tanta ne sentirò ancora come tutti, ma ciò che conta è non perdersi. Numerosi sono stati messaggi di affetto per il consigliere dopo mesi di battaglie, non solo per avere la possibilità di candidarsi, ma soprattutto per l'effetto della legge Severino, che in altri casi in Italia non ha avuto la stessa applicazione. Per quanto riguarda le regionali, non solo Amati sarà nuovamente candidato, lo stesso hanno già fatto gli altri due consiglieri uscenti, Pino Romano, attuale capogruppo del PD in Consiglio regionale, Giovanni Epifani. Per l'imprenditore Edile Ossunese si tratterebbe della seconda legislatura, idem per Amati, mentre per Romano si tratterebbe della terza, il massimo consentito dal regolamento di partito, anche se la direzione ha autorizzato una quarta legislatura in Puglia solo per Mario Loizzo. La candidatura degli uscenti al momento sbarerebbe la strada per le regionali ad Antonio Elefante e Luciano Loiacono. Il candidato presidente del centrodestra, Francesco Schittulli, sabato parteciperà a Bari al coordinamento regionale del nuovo PSI, invitato dal segretario regionale Michele Simone. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulle eminenti elezioni regionali. Sono stati invitati anche gli altri responsabili regionali dei partiti della coalizione di centrodestra. In attesa dell'adesione anche di Forza Italia, ha detto Schittulli, è indispensabile andare avanti con il programma e la campagna elettorale per dare alla Puglia un'alternativa di governo che ridia ai giovani pugliesi la speranza di un futuro occupazionale legato a questa regione e dignità alle persone socialmente più deboli. Invece lunedì 2 febbraio a Bari si riuniranno i segretari regionali della coalizione di centrodestra che sostengono Schittulli per condividere le bozze delle linee programmatiche elaborate dagli esperti degli incontri tecnici che si susseguono e che saranno presentate nella prossima convention della coalizione che segnerà l'inizio ufficiale della campagna elettorale del centrodestra. Con deliberazione del commissario straordinario numero 64 del 22 gennaio 2015, l'azienda sanitaria di Brindisi ha approvato il piano triennale delle assunzioni 2014-2016 in applicazione delle deroghe autorizzate dalla Regione Puglia. Sono state considerate le criticità emergenti nelle diverse strutture ed aree assistenziali e funzionali in cui si articola l'azienda sanitaria allo scopo di migliorare la qualità dei servizi entro i limiti delle disponibilità di bilancio ed in relazione agli obiettivi di realizzazione e contenimento della spesa imposti dalle leggi di stabilità. Procedure di reclutamento che riguardano il comparto per l'assunzione di infermieri tramite lo scorrimento della graduatoria valida fino al completamento delle 37 unità inserite nell'elenco. Sono invece 96 in tutto gli operatori del comparto da individuare tra tecnici della prevenzione, tecnici di radiologia, medica ed operatori sociosanitari e per i quali sono state già attivate le procedure di reclutamento. La direzione strategica è inoltre orientata al massimo potenziamento dell'organico del pronto soccorso. La realizzazione del piano assunzionale è effettuata nell'emore dell'approvazione della nuova dotazione organica da elaborare sulla base dei parametri standard forniti dalla Regione attualmente in corso di ulteriore definizione e allo studio la predisposizione di un provvedimento in aderenza con la deliberazione di giunta regionale numero 2638 del 16 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, sono stati esplicitati i criteri e le procedure amministrative da seguire per la predisposizione del piano assunzionale annuale 2015. Si riaprono nuove destinazioni dagli aeroporti di Bari e Brindisi, novità e conferme rispetto allo scorso anno. Vueling annuncia l'apertura della seconda rotta internazionale Bari-Parigi per la prossima stagione estiva. Questa rotta, già testata dai passeggeri Vueling, in occasione dello scorso Natale, sarà operata dal 20 giugno al 9 settembre. Con due voli settimanali il mercoledì e il sabato a bordo di Airbus A320 da 180 posti. La nuova tratta si inserisce nel piano di promozione tra le grandi rotte internazionali che Vueling ha pensato di attivare per l'intera regione a partire dalla prossima stagione estiva. Oltre alla confermata Bari-Firenze, inaugurata un anno fa proprio da Vueling, che garantirà ai passeggeri quattro voli a settimana dal 27 marzo, torna per il terzo anno consecutivo il collegamento diretto da Bari per Barcellona, con due voli a settimana che diventeranno quattro nel mese di agosto e la possibilità così di avere accesso alle 140 destinazioni in connessione da Barcellona. Questo grazie al servizio Vueling to Vueling, che permette ai passeggeri di viaggiare con un unico check-in. Novità in arrivo anche per Brindisi, che a sua volta per la prossima stagione avrà un collegamento diretto con Barcellona. La rotta Brindisi-Barcellona sarà operata già in occasione del fine settimana di Pasqua, con voli il 2 e il 5 aprile e poi regolarmente a partire dal 28 maggio, con due voli settimanali che diventeranno tre nel mese di agosto. Disponibile ancora una volta per l'Avizio Francavilla Calcio, i soliti ovvero Capitano Taurino, intanto sfondo di diritto per Montaldi, reglamenti a Montaldi, reclamano per un abbraccio i giocatori di Francavilla in aria da parte di Blonda. Tutto pronto, Gallù in avanti per Montaldi, prova a girare col sinistro, chiude Chimenti in calcio d'angolo, chance per Hannibal Montaldi. Dunque al minuto 23, ha girato col sinistro sulla punizione di Gallù. Tutto il Francavilla è riversato in avanti, fisica l'abito finalmente, parte la punizione di Biason, tesa, quarta di testa! È staccato davvero indisturbato, quarta, poteva indirizzarla meglio. Palla fuori abbastanza clamorosamente perché ripetiamo, quarta era in posizione invitante, soprattutto era indisturbato. Attenzione a Biason, avanza duro Biason, poi serve a destra Montaldi. Entra nel regolo di Montaldi, va a Montaldi, decolare di Montaldi! Palo, palo di Montaldi, clamoroso! Poi recupera palla quarta, clamoroso palo, quarta ancora nel regolo, a sinistra, va a quarta, dribbling di quarta, termina a terra, recupera Biason. Tocco sporcato, Bricca, entra nella Bricca a sua volta, a terra, Bricca, poi diritto! Palla fuori, doppia occasione consecutiva, chiedono in tocco del portiere i giocatori francavillesi. E tanti giocatori a limite dell'aria, batte Marini, teso, allontana diritto! Che rischia l'autorete, attenzione! Poi c'è un fallo in attacco. E dunque l'unica vera occasione, loco rotondo, al 45esimo, è una quasi autorete di diritto sulla punizione di Marini. Quarta, vertice dell'aria di rigore, ancora quarta, cross al centro, va a diritto che controlla con il petto, va a diritto dall'aria piccola a destro! Sull'esterno della rete. Pronto Marini, battuta! Iullo in tuffo, Iullo allontana in tuffo, attenzione, minuto a 10, ancora diritto. 20 metri, si gira diritto, va a diritto, 20 metri, il tiro in posto diritto, allontana il portiere, richella! E c'è la rete, la rete, la rete, Vincenzo, richella, la mette dentro, dopo dare spinta dal portiere, sul destro di diritto, richella, piazzato lì, da destra, la mette dentro, la mette dentro, la mette dentro, Vincenzo, richella da Taranto. Classe 94, risultanza incontenibile, sugli spazi, per i vostri francavillesi, mister Calabro in campo, ad abbracciare sotto la tribuna dei francavillesi i suoi giocatori. Mister Calabro in campo, la sente sanguigno questa vittoria, mister Calabro, Vincenzo, Francavilla Calcio, che volontariamente va in vetta alla classifica, ripetiamo, diritto con un attorno, espulsione! Espulsione per un giocatore francavillese, per Gallù probabilmente, seconda munizione per Gallù di espulsione. Non abbiamo capito il motivo, mentre i compagni insultavano. E in questo istante l'arbitro fischia a fine del match, la vittoria Francavilla Calcio, espugna la corotonda per 1-0. Gol al 46esimo della ripresa di Vincenzo, richella, che proprio sul finale, Enzono Cesarini, regala i tre punti ai suoi. Richella, che riprende il destro di diritto, da 20 metri, è spinto dal portiere. Richella, come un falco, da media distanza, in diagonale, manda sotto la traversa, regalano tre punti difficili, forse i più sudati, non forse, di questa striscia di nuove vittorie consecutive. Siamo con mister Calabro, stremato anche lui dopo questa vittoria, all'ultimo respiro a Locorotondo. Delle nove consecutive, questa sicuramente è la più sofferta. Sì, è stata molto sofferta, per merito di una sud-est molto battagliera, come è giusto che sia, perché è ben messa in campo, perché hanno fatto una grande partita a livello di intensità agonistica. Noi, il calcio vive di episodi. Il primo tempo abbiamo avuto l'occasione per passare in vantaggio, siamo stati poco fortunati e precisi nel farlo, però poi queste partite in un campionato succedono, accadono. C'è la cosa positiva, il risultato sicuramente, e poi il fatto che la squadra comunque, fino alla fine, è sempre spinto, ci ha sempre creduto. Quello che è apparso chiaro alle tribune, su questo terreno, è davvero difficilissimo controllare il pallone. Sì, un po' complicato, quindi era difficile per noi fare un po' di situazioni che noi di solito proviamo in settimana. È più semplice per una squadra che cerca di difendersi questo campo, che cerca di fare la partita. Alla fine la squadra brava è quella che si adegua a tutte le situazioni. Noi lo siamo stati in parte perché abbiamo comunque, nel secondo tempo, siamo caduti in provocazione, ci siamo innervositi, abbiamo giocato poco a calcio perché avevamo la frenesia di passare in vantaggio. E quello non deve succedere. Noi dobbiamo continuare con la nostra identità, con la nostra mentalità, cercando di servire i nostri attaccanti con palle a terra e non con lanci lunghi. Domenica, su questo terreno, questo buon loco rotondo, la speranza che fermi il Nardò anche oggi, 6-1, facile, la squadra di Triana, insomma un Nardò lanciatissimo. No, pensiamo a noi che siamo venuti via da questo campo con tre punti, faticosamente. Io penso che c'ho il Taranto domenica e all'Ocro rotondo ci penserà qualcun altro. In questo numero del Salus Tg, arriva in Italia una nuova terapia ormonale, post chemio contro il cancro della prostata. Nella birra un composto promettente per Alzheimer e Parkinson, antibiotici contro il cancro da una bimba, l'idea vincente al papà ricercatore. Un'arma per mirare dritto al motore che fa crescere il cancro alla prostata, il recettore del testosterone. Dopo il fallimento della chemio per i pazienti con carcinoma avanzato resistente alla castrazione, è oggi disponibile in Italia un nuovo farmaco, Enzalutamide, un agente ormonale di ultima generazione che si assume per via orale, un'opzione in più nell'armadietto degli oncologi per trattare i malati più difficili. In questo gruppo di pazienti l'Enzalutamide ha aumentato la sopravvivenza riducendo la mortalità del 50%. Quindi immaginiamo una situazione molto grave con questo farmaco che effettivamente ha avuto questo effetto importante. Secondo uno studio cinese, un composto presente nella birra, o meglio nel lupolo, l'oxantumol, potrebbe proteggere le cellule cerebrali e contrastare lo sviluppo di malattie come Alzheimer e Parkinson. Testando il composto su cellule cerebrali umane, gli studiosi hanno infatti scoperto che potrebbe proteggere i neuroni e potenzialmente aiutare a rallentare lo sviluppo di malattie neurologiche. Si tratta insomma di un interessante candidato per nuove terapie mirate a combattere Alzheimer e Parkinson. Papà, perché non si usano gli antibiotici per curare i tumori come facciamo per tante altre malattie? Ha detto un giorno al papà ricercatore la piccola Camilla. Un'illuminazione per Michael Lisanti, direttore della Breakthrough Breast Cancer Unit dell'Università di Manchester, che insieme a un gruppo di colleghi statunitensi ha iniziato a studiare gli effetti di questi farmaci sui mitocondri delle cellule staminali del cancro, di otto diversi tipi di tumore. Un'idea che ha fatto apparire Camilla persino fra gli autori dello studio pubblicato sulla rivista OncoTarget. Previsioni meteo per sabato 31 gennaio. Al nord avvio di bel tempo, eccezione fatta per nubi sulle confinali e locali foschi all'alba in pianura. Nubi di nuovo in aumento dal pomeriggio. Al centro torna a peggiorare con precipitazioni al mattino su Sardegna e Alta Toscana e in estensione poi entrosera a tutti i settori. Al sud ancora maltempo sulle tirreniche con rovesce temporali in estensione diurna ai restanti settori. Torna poi a migliorare la notte su Adriatiche e Ionica. Venti moderati da sud-ovest sud-est. Mari mossi molto mossi o agitati. Temperature in calo.